Francesco Sottile, docente di biodiversità e qualità del sistema agroalimentare all'Università di Palermo. È più la biodiversità che influisce sulla qualità del cibo o è la qualità del cibo e quindi il suo successo sui mercati che aiuta la biodiversità? Direi la prima. La biodiversità ha certamente un ruolo straordinario, l'ha avuto e continua ad avere un ruolo straordinario nella definizione e nella determinazione della qualità del cibo, perché quando parliamo di biodiversità parliamo di qualcosa che ha fortissime relazioni con il territorio in cui viene coltivato e con la sapiente attività di contadini e agricoltori che lo coltivano. Allora questo mette insieme una serie di fattori che alla fine determinano quella qualità a cui noi facciamo spesso riferimento. Cosa vuol dire oggi tutelare un paesaggio rurale che ha bisogno di generare economia, produrre e quindi almeno in parte consumare risorse? Tutelare un paesaggio rurale in questo contesto significa in qualche modo tutelare il ruolo delle comunità rurali che lo hanno determinato, lo hanno costruito e che aiutano quotidianamente il disegno di questo paesaggio attraverso l'agricoltura, attraverso la biodiversità, attraverso quel modello di sviluppo di un processo naturale ma nello stesso tempo di un processo sostenibile che nel tempo ha creato delle situazioni assolutamente irripetibili, irrinunciabili ma nello stesso tempo in continuo divenire. L'attualità legata alla crisi energetica di questi tempi ha riportato sotto i riflettori l'eterna diatriba italiana tra l'ambientalismo integralista e lo sviluppo economico senza se e senza ma. Ma è possibile che non esista una via di mezzo che sia virtuosa e benefica per tutto? Si può produrre anche energia tutelando allo stesso tempo ambiente, agricoltura e paesaggi? Questa è una domanda estremamente importante per la quale esiste anche una risposta relativamente semplice. Il tutto può farsi se ci si siede intorno a un tavolo e si rispettano le posizioni di tutti. Non esiste la possibilità di fare delle scelte che siano dominanti nei confronti di altri percorsi o di altre strade intraprese. È necessario il dialogo, è necessario costruire un sistema che è un sistema complesso. Non esistono sistemi semplici e se non ci sono sistemi semplici non esistono neanche risposte semplici.